Buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con Topic. A Topic oggi vogliamo evidenziare, viene anche da sorridere perché vedete in questo periodo si dice che arrivano soldi dappertutto per riuscire a risolvere problemi che sono diventati atalici, problemi che tutta la cittadinanza vive quotidianamente, parlo di siccità, quindi mancanza di acqua, le fognature, strutture diciamo casermoni costruiti senza la possibilità di scaricare nelle fogne. Negli ultimi giorni abbiamo dedicato anche un ampio servizio alla questione delle fognature in determinate zone di Catania, parliamo in questo caso di quartiere San Giorgio, abbiamo notato che ci sono delle abitazioni che non hanno la possibilità di scaricare nelle fognature perché non esistono. Allora non si dovrebbe porre le domande, ma come mai è stata autorizzata la costruzione di un'abitazione senza esserci lo scarico fognario? Punto interrogativo. Questo accade ancora purtroppo in Sicilia, ma non solo nel quartiere San Giorgio, ma anche in altre zone. Allora fa specie pensare finalmente che il Presidente della Regione, Renato Schifani, che gongola su una situazione molto importante, quella di un tesoretto che l'assessore all'economia e al bilancio ha trovato da mettere a disposizione per i territori. Ecco, questi fondi che verranno messi a disposizione dei territori finalmente non vanno a rimpinguare casse di questioni che non servono a nulla. Ci sono delle priorità che sono legate alla siccità e alle fognature, al riciclo delle acque e insomma allora questi fondi devono essere destinati per far sì che le acque possano essere recuperate, che possano servire per l'agricoltura, che possano dare delle risposte ideali a tutti. Ecco, Renato Schifani ha proprio voluto dire che nella bozza di questa nuova finanziaria, che sarà circa 260 milioni di euro, ha già ripartito cifre importanti per argomenti che sono notevolmente importanti, per esempio 40 milioni per abbattere il costo dei biglietti aerei, questo è fondamentale per far sì che si possa veramente viaggiare senza essere cittadini di serie Z, perché i costi dei biglietti per chi parte dalla Sicilia o arriva in Sicilia sono veramente spropositati e allora il governo regionale ha pensato bene di cominciare a ripartire delle cifre, a rinnovare questo tipo di contesto e fino a Pasqua ci sarà la possibilità di abbattere i costi. Lui dice, Schifani, che non farà spendere nemmeno un euro su sagri di paese e feste per risparmiare, per dedicarli a cose più vitali, più importanti, è chiaro che le sagre e le feste sono importanti anche per il turismo e non devono essere non considerate, però bisogna industriarsi per far sì che queste sagre e queste feste possano essere organizzate magari privatamente da chi ha un tornaconto economico, imprenditori per esempio che hanno l'interesse di veicolare una parte di territorio con i suoi prodotti di paese, allora che gli spenda questi soldi, ma vedete, levare i soldi alla possibilità di creare una rete fognaria nuova o creare la possibilità che ci possano essere in futuro dei distalatori che possano dare l'opportunità di evitare la siccità, io penso che sia più importante pensare a questo, alle priorità che sono legate anche a tante cose che spesso noi diciamo, no, perché c'è la sicurezza, ci c'è la viabilità, al di là del fatto che c'è un'agricoltura in ginocchio, che ci sono prodotti che sono andati a male, prodotti che non saranno probabilmente manco raccolti, perché c'è una siccità pazzesca, poche acque o quantomeno sono stati degli acquazzoni sporadici, ma per esempio a Catania non piove da una vita, piccole gocce, insomma, in queste quattro province che saranno attenzionate, che sono Caltanissetta, Agrigento, la stessa Catania e anche Palermo, saranno particolarmente attenzionate per un discorso che è legato anche al riciclo delle acque, ci sono delle priorità a cui non si può fare più o meno, in un contesto generale dalla regione sottolineiamo il fatto che ce ne fossero ben 17 che sono priorità assolute, il problema è capire se la volontà di chi deve porre rimedio è celere, se la burocrazia non frena, se i ricorsi non frenano, se i soldi spesi per fare qualche cosa possono diventare oggetto di discussione ideologica. ecco, questo è quello che dobbiamo cercare di dirci in Sicilia, in Sicilia c'è tanto da fare, ci fa piacere molto, lo ribadisco, che ci siano dei fondi che sono stati tirati fuori come giolli per far sì che si possano dare delle risposte alla cittadinanza e allora noi questi argomenti li vogliamo veicolare, vogliamo dare veramente grande visibilità perché spesso noi ci siamo trovati a fotografare situazioni incredibili al limite della sopportazione però quando ci sono passi avanti verso possibili soluzioni e allora ci fa piacere evidenziare ed è per questo che diciamo alla regione grazie per quello che sta cercando di fare sperando che chiaramente questa sia una goccia d'acqua su tutto quello ci sarà da fare in Sicilia io spesso dico e lo faccio sempre con cognizione di causa speriamo che ci sia il famoso ponte sullo stretto di Messina che possa ulteriormente dare una svolta all'economia, creare occupazione, sviluppo su questo territorio che si è arenato, che si guarda allo specchio e pensa che ci possa essere solo il turismo no, c'è non solo il turismo, c'è l'agricoltura, la pastorizia, insomma tantissimo da mettere in mostra e poi i prodotti siciliani che sono sempre, possiamo dire senza falsa modestia, i migliori in assoluto questo lo dico a tutti voi che ci seguite da tutta Italia attenzione, mangiate un frutto siciliano con un altro frutto che arriva da un'altra parte la differenza è sostanziale, quindi veicoliamo tutto ciò che di positivo si può ricavare dalla nostra terra detto questo per Lars che sta avviandosi a questa manovra bisognerà come detto monitorare, controllare che questi fondi realmente non vadano a soddisfare le esigenze di pochi personaggi perché vedete prima si diceva che la politica volesse in qualche modo accaparrarsi cifre da destinare ai propri comparti, ai propri interessi qui si dice finalmente c'è la Sicilia da onorare tutta e che questi soldi possano dare delle risposte a tutti coloro che sono in emergenza e come detto prima le emergenze in Sicilia non ce le facciamo mancare mai. Ecco siamo arrivati alla fine anche di questo spazio io come sempre vi esorto a continuare a scrivere a redazione chiocciola spazionotizia.it perché noi vi raggiungeremo, raggiungeremo quei territori che hanno bisogno di essere attenzionati con le nostre telecamere, faremo i nostri commenti e cercheremo di smuovere come si dice spesso le coscienze. Telefonate anche al 3792 24 24 20 noi siamo a vostra completa disposizione. Grazie e anche per oggi è tutto, arrivederci, a domani. Grazie.